Ciao dolcezze, allora nuovo video, come faceva Alessia White Chocolate ASMR solo con le mani in vista anche se non ho messo lo smalto e ho le unghie corte quindi vabbè scusate non mi sono preparata ma le unghie corte sono proprio speccate tutte quindi senza smalto va bene lo stesso oggi un video spesa brevissimo giusto riempi dispensa ho comprato all'ins pochissime cose questa è l'inquadratura ho dimenticato lo zucchero vabbè è già dentro il barattolo dentro la zuccheriera l'ho tolto dal pacchetto lo messo già nel barattolo perché mi mancava e quindi tutto il barattolo tutto il pacchetto dello zucchero l'ho messo già nella zuccheriera appunto allora facciamo un po' di suoni in video spesa ins ASMR brevissimo super mega iper breve allora lievito per dolci lievito per dolci bascia molto valido questo mi piace costa poco la scatola è di carta ma dentro c'è il sacchetto sempre di carta 80 grammi c'erano anche le gocce di cioccolato ma prossimamente le compro adesso una tavoletta di cioccolato fondente in casa ce l'ho sono i moscerini è molto valido molti cibi dell'ins sono validi ve li consiglio ok poi i pistacchi un pacchetto solo 2,99 euro adoro alla follia i pistacchi li posso mangiare così li possiamo mettere con il cioccolato fondente sciolto e facciamo dei dolcetti tenuti in frigorifero pistacchi oppure noci oppure mandorle e cioccolato fondente pistacchi tostati salati 200 grammi molto buoni molto validi e fanno molto bene la frutta secca in generale fa molto bene a voi piacciono i pistacchi fatemi sapere poi ho preso lo zucchero di canna dell'ins questo biologico 500 grammi mai provato questo qui è una novità zucchero di canna mi ricordo quanto l'ho pagato sinceramente forse anche questo 3 euro anche per questo zucchero mi serve un'altra zuccheriera un altro barattolo questo è chiaro ci sono anche molto più grandi chicchi molto più scuro lo zucchero di canna di solito in altri pacchetti speriamo sia buono in smergata 500 grammi sacchetto plastica agricoltura non ue conservare l'uovo fresco e asciutto bello poi due cose da frigo solo due a parte i ghiaccioli che va bene solo la carta presaola della valtellina 100 grammi che tra stasera e domani finisce la mangio sia così con un po' di olio e limone oppure faccio gli involtini con il formaggio fresco spalmabile senza lattosio sono tutti un po' acidi questi formaggi spalmabili senza lattosio sia questo qua che quello dell'ins sono tutti acidi non masperi bruschi comunque sembra che ci ha messo un limone dentro non so perchè sono acidi non so comunque questo è buono sia questo che quello dell'idol che quello del carvore 175 grammi vita well poi i ghiaccioli vabbè non ve li faccio vedere solo la carta ho tenuto 10 ghiaccioli forse 1 euro e 99 anche questo pascia marca pascia dell'ins zan di acqua acqua e zucchero poi i panni cattura polvere anche questi forse 2 o 3 euro e 99 arricchito con cera d'api ideale per legno e parquet forse li ho comprati sbagliati perchè non ho nel legno e nel parquet però vabbè spero che vadano bene lo stesso 20 panni non sono di marca marca flu marca flu panni con trame in rilievo 3D speriamo che siano validi se no vado a cambiarle non li ho mai comprati per il legno non so vabbè di solito c'è scritto per tutti i tipi di superficie per tutti i mobili invece questo qui per legno e parquet speriamo che vadano bene speriamo poi allora due cose da frigo anche perchè tanto la frutta la ho già la verdura me la danno un po' di miei parenti dall'orto peati quelli che hanno l'orto insomma sono contenta perchè ha l'orto e via allora poi ho preso 18 per 10 fazzoletti c'è il vento fuori sto guardando 18 più 10 fazzoletti dell'ins marcalori già aperti perchè mi servono vedete 18 per 10 quattro veli marcalori 18 pacchettini così che sono molto validi anche senza balsamo sono molto validi questi fazzoletti ma anche senza balsamo non sono della tenderly non sono di marca ma sono validi poi asciugatutto mi serve la carta da cucina perchè non ho la carta non ho la carta di giornale insomma quindi per lavare i vetri gli specchi soprattutto i vetri questa carta da cucina in tutti i negozi la compro anche se non è di marca va bene lo stesso lo riasciuga tutto 2 maxi rotoli 3 veli fantastico 3 veli 3 veli super assorbente super resistente con i fiorellini vedete che sono 2 maxi rotoloni io non ho neanche il portarotolo però comunque li uso spesso questi maxi rotoloni durano tanto sono molto validi molto validi sacchetto di plastica vedete anche i miei pantaloni leopardati la scusate la tovaglia natalizia vabbè spero che non ci siano problemi se vedete la tovaglia natalizia non ne ho altre al momento quindi mi sono portata avanti ho messo già la tovaglia di natale anche se siamo ancora a ottobre io mi porto avanti sto già pensando al natale a cosa regalare a chi fare i regali quanto spendere cosa comprare eccetera eccetera è meglio portarsi avanti io penso al futuro non ho comprato niente di dolce anche perchè caramelle non le voglio più comprare il cioccolato ne ho già comprato una barretta nuovi al Carrefour che ho fatto il video spesa mi sembra da a settembre si non mi ricordo quando comunque vabbè yogurt non li ho comprati cioccolato se ce l'ho gelati vabbè ho comprato i ghiaccioli non ho comprato niente di inutile le mele le avevo già comprate quindi posso fare un sacco di dolci di torte biscotti le uova le ho comprate le ho prese 10 ma non ve le ho fatte vedere perchè sono nella confessione quella gigantesca e avevo paura che si rompessero a 3,99 euro 10 uova medie da allevamento a terra a volte compro le naturelle ma anche non di marca va bene lo stesso io compro sia cose di marca che a volte non di marca poco importa poi ho preso questo 99 centesimi che compravo già anni fa un litro e mezzo ecco pavimenti ecco 10 la marca dell'ins profumo di lavanda ce ne sono anche altre giallo blu forse anche verde un litro e 15 tappo giallo liquido viola dentro bellissimo fantastico anche questo è chimico ho provato a lavare i pavimenti con l'alcol o con l'aceto o con la candecina ma non mi piace l'odore di questi 3 detersivi naturali tra virgolette quindi questo qua almeno anche se chimico mi piace l'odore anche floreale mi piace non solo lavanda anche prezza marina insomma quello azzurro come contenitore liquido blu sempre dell'ins non di marca o anche al pennice prezza marina profumo di pulito di bucato anche non di marca ci sono altri detersivi molto validi come profumazione a parte questo dell'ins che costa 99 centesimi sia in offerta che non in offerta costa poco ed è un bel parattolone che posso anche volendo magari riciclare se riesco sarebbe bello riciclarlo tappo leggermente dosatore l'odore bellissimo vedete il tappo com'è così come gli ammorbidenti fantastico bello pieno perché è bello e pieno fino all'orlo praticamente come le bottiglie dell'acqua ne riempiono bene vedete bello pieno ecco 10 pavimenti è un color lilla lavanda un po acquoso insomma un po trasparente questo colore non è proprio vivissimo non è super forte come colore un colore chiaro però mi piace esplosione di freschezza lunga durata rimane tanto questa profumazione sui pavimenti ok quindi ve lo consiglio se avete l'ins andate a comprare tante cose sia da mangiare che detersivi perché sono molto validi i fazzoletti ha anche la carta sia anche la carta igienica ci sono le salviette voglio provare tanti prodotti beauty ho forse provato una crema viso mi sembra una crema mani all'ins che è anche molto valida i cibi sono molto buoni devo vedere se qui i panni vanno bene anche se non ho il legno in casa non ho il parquet spero i panni catturapolvere che vadano bene lo stesso fatemi sapere se vi piace di più questa inquadratura dove non mi faccio vedere in faccia oppure se vi piace di più inquadratura dove parlo e mi vedete in faccia mentre faccio i video spesa insomma scusate il gioco di parole commentate ok bello questo liquido non so se aveva il manico forse sarà più comodo da tenere perché così è un po scomodo però è bello mi piace questo prodotto lo compro già da anni tantissime volte l'ho già comprato ho preso anche detersivo sempre per i piatti sempre marca eco 10 al limone mi sembra sì al limone all'ins la marca eco 10 o marca bio o marca lori o marca vita well o marca flu ce ne sono tanti di marca sotto marca ovviamente voi li fate in casa i detersivi ve lo chiedo sempre rispondete se li fate in casa con che ingredienti li fate oppure li comprate confezionati cioè li comprate chimici detersivi fatemi sapere come vi trovate meglio ok io adesso vi saluto il video per oggi finisce qui scusate il detersivo per i piatti non ve l'ho fatto vedere anche le uova non ve l'ho fatta vedere anche lo smanto speccato scusate oggi va così questa presaola voi fate gli involtini ce n'è veramente poca c'è più plastica che presaola però è buonissima se è troppo filacciosa a me dà fastidio c'è tanta plastica non so se la presaola nella confezione di carta sarebbe meglio però forse troppa plastica non va bene per il mondo e per l'ambiente però la plastica fa un bel suono per i video smr posso anche fare con i pistacchi un sacco di torte mi sembra anche con le noci ci sono un sacco di ricette torta mele e noci un sacco di dolci e anche la pasta col pesto di pistacchi è buonissima adoro la follia i pistacchi per me sono quasi una droga anche se fanno bene mangiati pochi fanno bene non esagerate mi raccomando a mangiare troppa roba salata le arachidi anche fanno bene ma non mangiate troppe questo è il video spesa di oggi ok presaola della valtellina icp a fette ce ne sono poche fette però vabbè è buona costa poco cattura polvere pistacchi zucchero di canna anche lo zucchero bianco l'ho già detto che l'ho comprato ma l'ho messo già nella zuccheriera vedete questo è il barattolo dello zucchero è una nuova zuccheriera anche se avevo quella rotonda tipo shabby chic di vetro ma adesso ho usato quello lì come barattolo i chiaccioli questi qua ho lo stampo per farli in casa però non ho lo sciroppo e costano più di 4-5 euro gli sciroppi quindi non li compro sono tirchi no scherzo comunque sono buoni facciamo anche un po' di suoni della carta strappata e poi vi saluto spero questo video vi piaccia vi sia piaciuto appareste 700 grammi 10 ghiaccioli marca pascha dell'ins ci sono anche i ricoperti gelato ricoperto gelato alla marena lo stecco alla marena ci sono anche le vaschette all'ins che sono molto buone affogato alla spagnola anche all'emmd l'affogato alla spagnola è buonissimo come gelato finché potevo mangiare il latte la compravo quella vaschetta i simi look anche all'ins sono molto buoni c'è anche la pizza pala che è molto buona all'ins pizza pala potete farla in casa ma se non volete impastare la comprata è già fatta è molto buona quella dell'ins tanti cibi buoni anche il brillantante mi piace quello dell'ins anche il cura lavastoviglie dell'ins il cura lavatrice mi piace all'ins costano poco sono validi anche il bicarbonato costa poco la farina 00 all'ins è molto valida il pan pauletto molto valido il pane però dog i ceci i legumi i fagioli dell'ins sono molto buoni adesso li avevo già comprati al carrefour i legumi quindi vabbè lenticchie molto buone anche la tisana camomilla con melatonina anche le noci dell'ins sono molto buone i pistacchi dell'ins sono buoni i biscotti sono quasi tutti buoni ci sono anche a volte le kinder dell'ins voglio ricomprare vabbè le barrette le voglio fare in casa non le compro più né Kellogg's né di altre marche voglio provare le merendine quelle al mirtillo che dicono molti youtuber che sono vegane voglio provarle se mi piacciono non mi ricordo se le avevo già comprate c'è anche all'ins un succo in bottiglia di vetro arancia carota e limone che è molto buono e anche il succo di mirtillo c'è la bottiglietta di vetro che dovrebbe essere molto buono mi sembra che l'ho già comprato non mi ricordo anche la bottiglia succo di melograno è molto buono all'ins vi consiglio anche l'acqua nord se andate all'ins compratela acqua nord naturale anche la pasta mi piace le piadine 99 centesimi 3 piadine non mi ricordo la marca però forse è ca bianca o all'emmd o all'ins sono molto buone le piadine ma c'è anche il trucco diciamo c'è la ricetta per fare le piadine in casa quindi voglio provare a farle in casa di detersivi per i pavimenti eco 10 ci sono anche altre profumazioni ovviamente altre profumazioni a parte questa ok vi saluto e ci vediamo presto in un altro video scusate lo smalto adesso me lo metto a presto